Qui abbiamo Filippo Leroy, chi non conosce Filippo Leroy, è l'utile neanche più presentarlo, 80 anni, meravigliosi, ancora si lancia, il discorso ha compiuto 80 anni, ecco, ci parli di questa ancora, è l'ennesima esperienza di tantissimi giorni. Il paracalutismo è una passione, l'età non conta, fino a che la visita mi dica, va bene, si continua, ormai ho 2000 lanci, ho cominciato tardi, a 56 anni, ho festeggiato le 80 venerdì scorso e speriamo che c'è una bella schiarità per scrivere adesso, stasera, 8-0 nel cielo, se il pilota non ci porta, non so dove, perché il primo lancio che è stato fatto credo che sia andato fuori il raccordo a nulla. Filippo, noi facciamo una domanda perché quest'anno è stata una situazione molto tragica nel campo del paracalutismo civile, il suo pensiero su quello che è accaduto quest'anno? Io voglio dire una cosa, se uno vuole strafare all'atterraggio perché tutte le incidenze sono successe all'atterraggio, è un sport che non, perdona, non voglio ancora riparlare di questo attore che ha fatto uno sbaglio colossale e direi un'altra cosa che non aveva abbastanza per avere un'ala con i piccoli. Tutti gli incidenze fanno male al nostro sport, prima di tutto, perché il materiale oggi è sicuro al 100%. Tutti gli incidenti arrivano all'atterraggio, o no, no, perché non lascia atterrare quello che è più basso, o perché si scontrano, o perché non guardano intorno, o perché vogliono strafare facendo un flare davanti a tutti, che bisogna essere bravo e avere qualche lancio. Io personalmente non mi diverto a questi giochi e prendo il mio cappuccino e il mio cornetto ogni mattina. Allora, Filippo, lei ha cinque figli, di cui due femmine. Ecco, nel campo del paracalutismo cosa ne pensa delle donne in questo senatore? Ma sono bravissime, altrettanto bravi di noi, di fatto hanno vinto facendo il campionato del mondo, facendo un numero di figure incredibile durante il campionato, 66 punti in un lancio, che non si è mai visto. I maschi hanno fatto 56 perché è un lancio quadrato, come dicevo, non c'è tante, le ragazze sono altrettanto bravi, no, 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 tanto, credo che le percentuali di ragazze sono, come uomini, ci sono altrettanto, non c'è una differenza di sesso. Cosa preferisce di più, la disciplina del freestyle o quella di precisione? No, io faccio il relativo, perché mi piace il freestyle, ho provato, ma ci vuole, uno ci vuole, il tunnel, il famoso tunnel, ore di tunnel, 180 euro alle 10 minuti comincia a fare caro, poi sta in Inghilterra, poi non ho tempo, il mio lavoro, le cose, io preferisco guardare i miei amici, e poi trovo che il relativo è la cosa più bella, perché il freestyle è quasi acrobazio, c'è un certo Olaf Zipzer, che basta a 13.000 lanci di freestyle, io non ho tempo, e poi non posso per il mio mestiere, anche, di fatto quest'anno pochi lanci, 50 lanci, niente, non ci arrivo, se uno fa teatro, lavoro sabato e domenica, i circoli sono aperti, il lunedì sono chiuso, dunque, c'è niente da fare, comunque appena posto sono a Nettuno, al baracanutismo Nettuno, che è un bellissimo circolo, dove si sono pieno di ultraleggeri, di fatto, e di aere, e la sopravvivenza dei circoli adesso è il tandem, il tandem, il tandem perché tutto costa tanto, vabbè, io ancora mi posso offrire qualche lancia domenica, per i ragazzi, e poi c'è un'altra cosa, perché i francesi hanno preso tutti i titoli del mondo quest'anno, perché c'è una federazione, che non c'è in Italia, che li aiuta, ecco perché. Quindi dice che l'aeroclub dovrebbe fare di più, perché possa far cadere i costi per i giovani. Non l'aeroclub, una federazione, noi dipendiamo dai, come si chiamano, dell'aeroclub d'Italia, il FAIC è una licenza internazionale, per esempio, costa 30 euro in Francia, 130 qui, perché? Invece un consiglio per i giovani che vogliono intraprendere questa attività scoperta che vogliono fare oggi? Il peccato è che è diventato per un giovane un scopo un po' caro, 25 euro un lancio è caro, però con 4 lanci invece di un gram di cocaina credo che è molto meglio. Grazie.